Cari ragazzi, questo è una video circolare, il vostro dirigente che vi parla, semplicemente per dirvi che in questo periodo particolarmente difficile sono orgogliosa di voi, orgogliosa del vostro forte senso di responsabilità che avete dimostrato e che naturalmente continuerete a dimostrarlo nel rimanere a casa e nel profondo senso di rispetto e di impegno nel seguire la didattica a distanza. Proprio per questo, in questo periodo di vacanza, ovvero dal 9 al 14 di aprile, le lezioni della didattica a distanza saranno sospese e io nella speranza di rivedervi davvero tutti presto, vi auguro una Pasqua serena a tutti voi, alle vostre famiglie, vi auguro di avere un periodo almeno il più possibile disteso e di dire state dando un grande insegnamento a tutti noi. Forza Grandis, vi abbraccio.